Questa è la birreria del posto, del ristorante, è stato aperto nel 2020. Ragazzi, attenti! Questo qua è dal Belgio e da questo qua viene fatta la birra Indian Pale Whale. Orzo, sono diversi tipi, dipende anche per la birra che devono fare. Perché si deve aggiungere a una temperatura di 80-50, perché? Sì. 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 Sì.